Allora, cari amici di BBTV, sono qui nella sede della Proloquo di Val Brambilla, mancano due settimane al grande evento dell'8 dicembre, lo sconto lo decidi tu, cioè io mi domando, da cosa si capisce che c'è la festa dell'8 dicembre, ma non lo so, guardate qui, in esclusiva, perché possiamo, qua ci sono tutti i volantini, vedete, probabilmente gli esercizi esporranno, quelli che aderiranno all'8 dicembre, vedete qui, qui abbiamo addirittura le diciture delle feste, bagni BC, feste di Sant'Antonio, guardate qui, i segreti più nascosti della Proloquo, guardate qui, questa freccia, chissà cosa sta a indicare, probabilmente verranno riutilizzati anche per la festa dell'8 dicembre, a qui, qui vedete, Rinaldi Emanuele e Peicore, probabilmente sono, ah, eccoli qui, qui abbiamo in esclusiva, vedete qua, degli eventi, probabilmente che verranno affissi sugli stand o sugli eventi, guardate qui, qui abbiamo anche robe che, vabbè, probabilmente verranno riutilizzate un po' anche tra le cose della festa, intanto qui guardate i vari volantini che probabilmente vengono distribuiti, ecco qui, i vari, vedete qui, sul tavolo della Proloquo sono tutti i volantini, questi probabilmente verranno esposti per il paese, vedete che sono tutti uguali, qui abbiamo un sacco di bigliettini, probabilmente per le persone che aderiranno, le vedete legate con elastici e tutto quanto, va bene, qui non c'è, però se ci spostiamo, oltre a questo bellissimo bancale, troviamo anche qui, come vedete, intanto hanno già il calendario 2018, vedete là, fornito da, probabilmente da Gotti Mangimi, perché la Funtebracca è il suo sponsor, intanto abbiamo anche qui, vedete, qualcosa che riguarda l'8 dicembre, qui abbiamo già una ricevuta dell'8 dicembre, come vedete, tutto in fibrillazione già, qui Proloquo per l'8 dicembre, un bel casotto già, vabbè qui questo ripiano non c'è nulla che ci faccia ricordare l'8 dicembre, però ecco, voi vedete qua, vi siete accorti che siamo in valo per l'8 dicembre, qui ci sono delle palline colorate, non so cosa serviranno tutte queste palline colorate, però noi di VBTV, visto che condividiamo la sede, e io posso entrare quando mi pare, ho potuto vedere che abbiamo tutto in aria, quindi vedete, a due settimane dall'8 dicembre, c'è molta 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 fibrillazione per tutto, e noi quindi staremo a vedere, questo live improvvisato finisce qui, come si dice, work in progress per l'8 dicembre, ciao ciao!